Andrea Bricca, allenatore delle Vivi Alto Tevere Sansepolcro, siamo a commentare un pareggio quello interno contro la Narniese dal sapore un po' amaro. Sì, dal sapore un po' amaro per come è stata la partita, anche se devo dire che è stata una partita veramente intensa, anche piuttosto bella, dopo logicamente il rigore al 44 del secondo tempo ti lascia un po' d'amaro in bocca. Peccato infatti per questi due errori individuali, quello in uscita che ha portato al gol del pareggio e poi quello dal dischetto. Sì, va bene, ma io dico sempre ragazzi che è importante creare occasioni, essere lì davanti alla porta avversaria, poi con la qualità che abbiamo davanti i gol, ancora più gol arriveranno sicuramente. Una menzione speciale per Simone Braccini per questa prima parte di stagione la vogliamo fare? Sì, sì, è un giocatore forte, è un giocatore forte che ancora non sa secondo me quanto è forte, ancora ha dei sprasti di partita in cui io lo prendo un po' in giro, si assenta, quindi secondo me lui ha tanto ancora da dare, logicamente quello che sta facendo è già di un ottimo livello. Dopo questo pareggio un po' amaro, Andrea cosa hai detto ai tuoi ragazzi alla ripresa degli allenamenti? Sinceramente io ho detto che sono stati bravi, hanno fatto una buonissima partita, logicamente io valuto la prestazione della squadra, poi magari dobbiamo correggere il singolo, andare magari sul dettaglio, quello c'è sempre da migliorare, abbiamo commesso degli errori individuali che ci dobbiamo lavorare e migliorare, però sulla prestazione della squadra credo che sia stata molto positiva. Arriva mister questo fine settimana un altro impegno bello tosto, quello in casa di una delle scuole più attrezzate di questo girone che è lo Spoleto. Sì sì, infatti la classifica parla anche chiaro, dopo sei giornate si inizia a delineare un po' quali sono i valori di questo campionato e lo Spoleto ha perso la prima in maniera forse nemmeno meritata contro l'Angelana, poi ha fatto una serie di risultati utili con tre vittorie di fila, queste ultime tre e ho avuto modo di vedere la partita, a parte che conosco anche giocatori loro che hanno fatto categorie importanti, categorie con tante presenze in livelli molto più alti dei nostri, quindi è una squadra molto esperta, è una squadra che la classifica parla chiaro insieme a Lama e Foligno, secondo me in questo momento è la squadra una delle più forti. Recupererete qualcuno per questa trasferta? Abbiamo qualche problemino da gestire, speriamo che Gorini sia a disposizione per la partita e poi ancora mancano due giorni, tre giorni, quindi è ancora lunga dai.